Ciao ragazzi! Razionalizziamo l'espressione 1 fratto radice terza di x meno 1. Per farlo ricordiamo il prodotto notevole a meno b per a quadro più ab più b quadro che è uguale alla differenza di cubi a alla terza meno b alla terza. Moltiplichiamo quindi tutto per radice terza di x quadro più radice terza di x più 1 fratto la stessa cosa. In questo modo abbiamo ricostruito al denominatore il prodotto notevole che ricordiamo. Ritroviamo perciò radice terza di x quadro più radice terza di x più 1 tutto fratto radice terza di x alla terza meno 1. E quindi l'espressione della frazione è razionalizzata radice terza di x quadro più radice terza di x più 1 fratto x meno 1. Ciao!